Ciao amici, ben ritrovati! Oggi vi parlo di Leica Q2 Monochrome. Questi video sono realizzati in collaborazione con R.C.Foto Livorno che mi hanno consentito di avere questo materiale da testare, da provare. Una fotocamera che senza dubbio ha alzato ulteriormente l'asticella perché ho trovato dei transitori, delle finezze, soprattutto fra i grigi, ma ancora meglio, il rapporto fra il bianco, il grigio e il nero che mi ha ricordato molto da vicino la pellicola. Faccio due appunti a questa fotocamera perché così ci togliamo subito il peso di quello che non va perché tutto il resto è una passeggiata tra i fiori. La prima cosa è un file che, per chi come me, continua ad utilizzare la pellicola e quindi ne ha masticata tanta in 40 e anche forse più anni Il file appare ancora leggermente digitale nel momento in cui lo andiamo ad ingrandire, nel momento in cui osserviamo il contrasto fra, per esempio, le nuvole del cielo. Non abbiamo quella sensazione di grana autentica, naturale, che la pellicola invece ci fornisce. L'altro aspetto, manco a dirlo, è il prezzo. E lo so, non venitemelo però a dire, sono il primo a saperlo e sappiamo tutti che l'aica si fa pagare, quello è il suo costo. È anche vero che lo sviluppo, l'ingegneria per un sensore come questo senza dubbio costa. Però, vabbè, abbiamo detto tutto, non serve dire altro. Tutto il resto è, lo sappiamo, la qualità percepita, un pezzo di storia che si tiene in mano, l'assoluta piacevolezza anche dei comandi, la sua essenzialità alla pulizia, un mirino che veramente fa la differenza. Mi è piaciuto tantissimo, visibile anche con la luce che vedrete nelle immagini, un sole accecante, riflesso sul mare. Non vi dico altro. Cosa che alcune fotocamere non sarebbero riuscite a farmi vedere così bene. E poi, capirete, è corredata da un 28 mm su Milux. 1.7 di apertura relativa, quindi un signor obiettivo. Non sarà forse il 35 mm che ho provato sulla M10, mi manca qualcosina in termini di plasticità. Però è assolutamente valido, mi è piaciuto tantissimo. Così piacevole da utilizzare nelle varie inquadrature, basta avanzare oppure arretrare per immettere nella foto altri elementi oppure concentrarsi su qualche cosa, che a me personalmente, che sono abituato a lavorare spesso con le lenti fisse, non ha dato alcun limite, alcun fastidio, o perlomeno non l'ho percepito come tale. Il fatto che sia soltanto una camera in bianco e nero, eh beh, quello lo sappiamo nel momento in cui la andiamo ad acquistare, quindi non scrivetemi Ah sì, ma sono tanti soldi per un sensore che fotografo solo in bianco e nero. No, ecco, sono cose superfue. Bello il mirino, quanto anche il display. Si riesce a vedere, ecco, quello magari non sempre completamente in pieno giorno, ma è un problema che hanno tutte le camere, bellissimi i materiali, manco a dirlo. E allora, ecco, questo è un po' quanto, ma adesso andiamo a concentrarci un po' sulle foto. Due dati tecnici giusto per inquadrare la camera, 47 milioni di pixel, una gamma dinamica che si spinge da 100 ISO fino a 102.000, insomma, come tante altre concorrenti del segmento, ma ci sono i tempi di scatto che fanno veramente drizzare i peli. 6 secondi, scusate, 60 secondi come scatto più lungo ottenibile fino a un 40 millesimo di secondo. accipicchia, un bel valore. E poi, sì, certamente la raffica, 10 fotogrammi al secondo, però credo che interessi marginalmente questo aspetto, così come il 4K, che è pur sempre un 4K a 30 frames. La camera non è ad ottica intercambiabile, bensì ad ottica fissa. Lo abbiamo detto, un 28 mm con luminosità relativa di 1,7. E che razza di obiettivo, un bel Sumilux. Due, proprio due note sul mirino, che ha una risoluzione equivalente a quelle delle migliori camere, anche di altri brand disponibili sul mercato, e anche comunque un bel display, magari non il primo della classe, ma ben leggibile, insomma, non serve altro. A me hanno colpito molto comunque i grigi, la scala dei grigi ed il dettaglio fine. Un dettaglio fine che restituisce proprio la percezione di realismo all'immagine. Purtroppo vedete le immagini compresse, ma guardate in questo caso che varietà di grigi, quello che i miei occhi hanno visto dal vivo. Non serve una post-produzione, l'immagine è quasi pronta, e quindi non serve intervenire massicciamente, non serve perdere molto tempo. Il bianco e il nero generato dalla camera è veramente molto valido. E poi parliamo un pochettino di questo Sumilux, da sempre gli obiettivi più prelibati, più prestigiosi di casa Laika. E questo non è da meno, perché comunque la qualità si vede, si percepisce e come. Buoni i JPEG in camera. È evidente però che con un passaggio in camera chiara, per esempio il TIF, quello che stiamo osservando in questo momento, diventa un'altra cosa. Vi faccio vedere il dettaglio che ha questo obiettivo. sono rimasto davvero a bocca aperta. Ma non è solo così il dettaglio che molti obiettivi anche riescono ad ottenere. Qui ci troviamo di fronte ad una scala di grigi che è difficilmente eguagliabile. Mi ha veramente convinto. Questi sono dei TIF, come vedete, dei TIF che vengono appena appena, insomma, ribilanciati. Ma guardate il realismo, cioè l'autenticità di questi scatti, soprattutto poi, per esempio in questo, fatemi... Ecco, guardate qui i grigi della roccia, le venature, come sono rese. Impressionante. Mi ricorda molto da vicino, ma devo dire molto da vicino, il 38 Biogon, la resa del 40 Distagon, sull'Hasseblood, sul medio formato, che con le pellicole idonee, sto pensando ad un Fuji Acros, perché ha quel tipo di contrasto, ma anche talvolta, dico talvolta, l'FP4, se ben sviluppato, perché insomma la grana è più visibile, riescono a restituire. Veramente. Tanto, ma tanto di cappello. Poi, guardate, il grigio è proprio la verità, l'autenticità di un fotogramma, la roccia che da appena umida diventa bagnata, e poi le increspature dell'acqua. C'è anche forse un ultimo scatto. Eccolo qua. Per esempio, anche qui, andiamo a vedere ad infinito, comunque la nitidezza, che è vero, che è un 28 mm, che porta con sé. L'unica cosa che mi allontana un po', e ve la dicevo all'inizio, dalla qualità dell'immagine derivante dalla pellicola, è proprio questo, le nuvole sul cielo. Cioè, una certa uniformità, un po' troppa, del cielo. Manca la grana, è troppo pulita. Quindi l'unico elemento, diciamo, per me, per dire, sì, questo è un file digitale, non è un file nativo a pellicola, lo vedo qua. Ma anche in questo caso, se devo osservare questi lievissimi momenti di grigio, di transitori, dico, questa sembra una pellicola, perché il sensore ha una capacità di raccogliere questo tipo di finezza. Qui invece ho raccolto i DNG, quindi gli scatti, così come la fotocamera, scusate, gli scatti che sono stati convertiti dai RAW originali della fotocamera. Prendo lo scatto di prima, ad esempio, questo o quell'altro, giusto per andare ad osservare. Magari ne apriamo un paio, perché mi interessa mostrarvi anche un'altra cosa. Questo e ci prendiamo. Questi due qua li apriamo con Camera RAW di Photoshop. Allora, qui abbiamo la roccia. La osserviamo ingrandita al 100%. Qui non c'è ovviamente applicato alcun filtro, alcuna maschera di contrasto. Anche nella parte periferica del file, non dimentichiamo che sono 47 megapixel, c'è tutto il dettaglio e la qualità che partono dal centro e effettivamente si spingono fino al bordo estremo. Davvero notevole. Ottima qualità. Basta appena una foto come questa bilanciarla, vi dicevo, nella tonalità, nelle luci, perché effettivamente è un pochettino piatta per salvare capra e cavoli, che diventa veramente una cosa molto, ma molto valida e vicina anche a quel look della pellicola. Tanto caro, per esempio, alle persone, agli appassionati come me. Questo è un altro esempio di come la Leica Q2 riesca a mettere insieme, a conciliare delle bruciature impressionanti, capirete, qui c'è il sole dietro, un'altra bruciatura impressionante, però a rendere comunque una foto anche gradevole e leggibile più di altri sensori con i quali ho provato a scattare. Cioè, se da una parte qualcuno, qualche altro brand potrebbe opporre una gamma dinamica forse leggermente più estesa, ma nel senso di artefondo, artefatta, ma non visibile agli occhi, artefatta, nel senso che non esiste. Qui abbiamo invece qualcosa che è molto più naturale, più autentico. Ricorre questo aggettivo perché è quello che ha permeato un pochettino tutti questi tre giorni. Si nota come l'acqua, per esempio, sia molto ben rappresentata. Di tre stop trovo degli elementi anche laddove era nero. Fatico un pochettino di più a recuperare invece delle luci anche togliendo un po' di contrasto, togliendo, intervenendo sulle alte luci e sul bianco. Qua, purtroppo, le luci quando sono bruciate nello scatto non le recuperiamo, tantomeno se andiamo a vedere questa che è ancora più bruciata. quindi vale un po' quello che vale come regola generale col digitale ma tanto più quando andiamo a lavorare con dei sensori monochrome guardiamo alle luci cioè esponiamo sulla luce al contrario di quello che si faceva con la pellicola. Seleziono altre due immagini questi sono dei DNG come potete vedere perché insomma ci sono due aspetti che è giusto valutare. Le ho aperte in camera raw eccolo qua questo è uno scatto che ho provato ad effettuare a f16 cercando di valutare anche l'effetto stella dell'obiettivo e soprattutto la tenuta in controluce. C'è un artefatto clamoroso ci sono questi effetti proprio tipici del sensore di riflessi interni e ahimè qui non possiamo né attribuire la colpa all'obiettivo che magari sostituito con un altro ma nemmeno al sensore perché questo è un sistema chiuso camera e obiettivo e allora attenzione non cercate i punti forme stringendo perché vi ritroverete con questi artefatti che sono veramente fastidiosi impossibili da eliminare e quindi insomma andiamoci cauti tra l'altro essendo uno scatto verticale come vedete il sole è posto a bordo del fotogramma si nota anche la distorsione cioè l'ovalizzazione perché evidentemente i pixel lo hanno l'obiettivo ovviamente lo hanno trascinato un pochettino ritorno invece a questa immagine al discorso che facevo prima cioè esponiamo sulle luci se vogliamo salvarle qui c'è un ampio margine ovviamente per come si dice dare un guadagno ai bianchi quando andremo a preparare la nostra foto per stamparla vorrei mostrarvi anche invece il recupero nelle ombre il file nasce sottoesposto questo è il nero per esempio più nero probabilmente della foto porto subito a due e mezzo come vedete si recupera tutto in maniera esemplare qui resta ancora abbastanza scuro porto su di tre stop e mezzo ma volendo anche quattro e guardate di cosa stiamo parlando in questo in questo caso e cioè una lettura un recupero nelle ombre impressionante impressionante c'è il dettaglio registrato anche qui e come notate siamo a più 4,1 stop nel file originale qui è nero denso 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 insomma è vero c'è qualche pecca lo abbiamo visto prima con con il sole vabbè eviteremo di fotografarlo a f16 però per il resto è veramente una grande ma grande fotocamera del resto c'è un sensore un CMOS monocromatico che cosa significa e dove sta la grande differenza ogni sensore delle camere digitali per fornire l'immagine colorata utilizza un sensore a matrice Bayer cioè un pattern di colori primari posizionati sopra i pixel in modo per l'appunto da poi generare con degli algoritmi l'immagine colorata di fatto i diodi cioè i pixel sono soltanto dei fotodiodi cioè dei rilevatori dell'intensità luminosa che poi digitalizzano mettendo in scala senza il sensore percepiscono direttamente e solamente la quantità luminosa e solo quella convertono e quindi l'immagine in bianco e nero da qui tutti i transitori dei grigi e questa finezza diciamo quasi ineguagliabile la camera consente di avere un crop in camera vabbè come tanti altri sensori riducendo un po' il formato fino ad arrivare all'equivalente di un 75 millimetri vabbè si può fare prima ma si può ottenere anche dopo c'è solo quest'unica lente perché non sono intercambiabili le ottiche che è un eccellente 28 millimetri anche con la funzione macro una funzione che tutto sommato insomma riesce ad avvicinare l'oggetto a contestualizzarlo e quindi a dargli il giusto risalto qualche camera simile non voglio dire concorrente mi viene in mente la sigma sd4 la adp la gloriosa merrill ma anche ultimamente la pentax k3 monochrome beh non condividono la qualità di questa camera però fotografano in bianco e nero e allora amici ci siamo fatti una scorpacciata di leica q2 monochrome sì io però ne avrei ancora un po' di appetito è veramente una bella fotocamera grazie a rc e fotolivorno e a voi tutti amici vi aspetto i prossimi video buona luce a tutti a tutti